La città di Battipaia sarà protagonista a Roma nell'ambito del Festival della Rigenerazione Urbana. Mercoledì 13 dicembre, alla presenza del sindaco della capitale Roberto Gualtieri e del ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, l'esperienza battipaiese dei lavori allo Stadio Sant'Anna e del relativo mercato coperto saranno al centro degli interventi previsti per le amministrazioni. Si tratta, a fanno sapere da Palazzo di Città, di una importante vetrina alla quale pochissimi comuni, medio-piccoli come il nostro, sono stati invitati grazie alla bontà dei progetti presentati per la riqualificazione urbana. L'evento, oltre al primo cittadino romano e al di Castero di Via Nomentana, vedrà la partecipazione di numerosi sindaci, tanto di grandi centri come capologhi di provincia, quanto di piccole realtà. Il tutto sarà incentrato sui vari lavori di riqualificazione che si stanno concretizzando in tutta Italia, grazie anche ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.